Nihar automata, come ripartiremo da dove ovviamente l'abbiamo lasciato Ovviamente Perché non ci sono quest per ora No infatti, vabbè siamo appena entrati, grazie non ci sono quest, siamo appena tornati Dal prologo, che ha durato una vita e mezza Sperando di non crepare alla mezza, così, alla qualunque No, dai, non credo Oddio Ok, sbaglio o il televisore è un po' storto? Sì, no, il televisore è molto, questo non fa niente Dovrò girarlo poi, bene Ok, eccoci tornati Io ho il singhiozzo, tanto per cambiare Devi andare dall'altra parte, c'è il segnalino C'ha ragione Ok, che sul Replicant ci sono le X, ma qui ci sono proprio i... Talacco, qua Devi andare, ah, giù Scusi Giù, 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 basta che salti, scendi Giustamente Andiamo Pod Finalmente oggi vedo meglio, meno male Sì, manutenzione finita Sì, manutenzione finita Più calda C'erano umiliare Qui c'è I need you to head to the surface Rendezvous with the resistance and do some recon Ok, guarda la scuola L'ho vista? We haven't been able to get in touch with them Quindi siamo quelli di là e quello sotto C'è anche un altro 9S uguale Il problema è alla finestra Raggiungi l'unger Oppure siamo i primi Può essere Per scato non poterli vedere da vicino No, già Non so per scato Due tipi scanner Davanti a noi Una come me Lì Oppure siamo noi Non si sa Però lassù ci sta un altro Sì No, forse quella là siamo noi Perché il taglio è diverso Sì, sì, sì Quello taglio è diverso Scusi, 9S Finora è molto poco colorato Ma sento che è proprio un bianco e nero Tutto molto grigio Normale Oh mio dio Bello il cielo però Il spazio, mi piace Mi sento male Ci ho stabilizzato I due interni sono saltati Così ora il mal d'ario Nonostante sia un androio Se li ha riparati Non so quante volte Senza risultati Sarà anche un po' Una suggestione Fate attenzione anche voi Ma che cacchio Oh, una iora nera Sì Sai Salve, sei in partenza? Deve essere bello Vorrei volare di nuovo Anch'io Gli aeroscalitri Sono molto costosi Gli sprechi Non sono consentiti E poi comunque Le unità da battaglia Li maltrattano Anche voi li avete danneggiati Io sbaglio Ti credete i ripari I vostri danni Non sapete apprezzare La bellezza degli aeroscalitri Basta È colpa nostra Ok Smettiamola qui Oh io Buon mazza l'operatore Stai buono L'operatore ovviamente È quella Questa qua Quella là Sì Questa qui invece È una tipo diversa Vedi che c'è capelli neri Sì è tipo te Solo che c'è capelli neri Guarda quanto è carina Vorrei tanto Che mi mettessero Un paio d'ali E un jet E se provassi A chiedere un modello scanner Buona idea Così non danneggieremo Altri aeroscalitri Purtroppo Hanno già respinto La richiesta Dicendo che il mio corpo Sarebbe andato in pezzi E che i costi Ne erano proibitive Oh Che peccato Eccoli Ecco i nostri aeroscalitri Uno Si diventa bianco Il spontaneo Dove devi diventare Sì È bianco Opla Eccoci qua Noi siamo il capitane Il comandante Prova Ecco c'è E lui è nero Ovviamente A2B Why do you think they send a combat model like you to a recon job? If all they want is intel We scanner models are built for that kind of thing Order are order All right All right Stammi da Da Stammi vicino Ma almeno C'è un po' di distruttivo L'elogio Ahia Allora Però non prendere le botte Uh 2B You're going to have some new weapon reinstalled from here on out I'll put up instructions for you Make sure to commit them to memory Right Thanks Guardate La terra Grattacieli Spiegate come Chi ci viveva nei Grattacieli Sì Trammi rimasti E' un po' di distruttivo Perché in automatico non è più il chip Come non c'è più il chip? Eh no Se è andata distrutta non ce l'è più il chip Ma io voglio il mio chip Dov'è il mio chip? Eh Qualcuno mi dia il mio chip Scusi I tuoi chip devi andare a riprendere dove sei esplosa Ma che triste E' un chip Quindi nella fabbrica Tra l'altro c'è pure un'arma Ule Oh my god Però qui a contrasto i replicanti le armi non ti servono Oh fa Se non ti servono per fare i finali Ti servono per fare un finale specifico E se tutto si chiede è intel We scanner models are built for that kind of thing Order 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 E mi chiede quale domande hai Non chiedere Non vuoi capirle Io li fanno di Ah Ti ho detto di là Mannaggia te Dall'altro quelli vuoi costruire per la fama Sì io sì Grazie Grazie Sì 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 Anzià Eh, se fa una cosa... Non c'è Ma devi prendere X prima che... Cerchio, era cerchio No, c'ha ragione Scusate La parte con stile gala che non mi piacciono Gladius anche Ci vogliamo mettere Io odio questa parte Sì, anch'io E tre E tu immagina farlo indiscutibile Non volevo che lo guarda Non c'è All right, all right Sì, l'ho detto tre volte Sì, l'ho detto tre volte Sì, l'ho detto Sì, l'ho detto Allora Allora Maledetto 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 Unicamente Guardi a leggenda Non mangia la miseria Ok Ora ci siamo Brava Ma qui ci dovrebbe azionarlo Dentro una schegna Schegna, 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 schegna Schegna, schegna, schegna E mi vede una cosa Chip devi guardare Non è qui Chip insieme non hai altri chip? No, non è nemmeno qui Non è nemmeno qui Come caspia? Ora si mettono Che cosa? Gli oggetti che abbiamo noi Quelli magici Quelli? Questi Ah Devevo leggere già Fa Tadà Adesso abbiamo un nuovo Vice Peccato che non parli come Vice Già Qui ci sarebbe una canzone bellissima ma Noi non la sentiamo voi si Amore ti guarda Mini mappa si Lo so come funziona la mini mappa Grazie Comunque faccio una riflessione A me non sembra tanto il mondo di No questo è il Giappone Ma il Giappone dopo probabilmente Mia replicant non è Non è propriamente in Giappone Teoricamente si Non dove sta mia Eh quella è una cosa a sé Un'altra cosa A parte Probabilmente potrei andare di là Ma Cosa fare? No di là non ci puoi andare Cioè si però È chiuso Può scendere però Però prima Posso andare di là Vediamo qua Ti fa aiutare dal po' di? Grazie signor Poggio Sì 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 Un po' di Difficoltà a riconoscere i posti Inchi 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 In sinc Mi hai fatto la sinc io Sì Tu è nains Allora qui sta nella rampa di scale No, sotto come se c'è, dall'altra parte c'è la spiglia Ah, quelle ci sono due persone sotto però non stanno qui Sotto di noi Credo tu possa fare con me il Rebligant, fare lo swisher da più dolace Ti corri invece che il camion, che cosa, sprinti di tanto Oh, c'è qualcosa lì Una macchina Non c'è niente Sì, siamo più in terreno Quasi Forse qui c'è qualcosa No, mi sa che è fuori, sai? Fuori sul palazzo Oh, siamo a piano terra Sopra il palazzo mi sa che stanno, vedi che ci sono dei... Si può essere... Lì giù c'è qualcosa C'è un oggetto Cos'era questa un'officina? No, sembra più... No, sembra più palazzo di gente che abitava Cosa Seme di pianta Questo sembra più, sai, un ufficio, un edificio di quelli tipo centri di ricerca Boh, a me sembra uno dove vendono in macchina Ok, siamo aiuta Corri, 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 corri Non attaccare gli alci Però ci può salire sopra Sì, ma devi avere i semi C'è un... Perché scappano? Vediamo una questa lì giù Vedi quel puntino rosso sul... Non quello, l'altro, vedi laggiù, no? La minimacca Dice che le macchine qui non attaccano Vedi quel puntino rosso lì? Un oggetto Dovrebbe essere uno questo Sì, mette l'albero Oh, guarda Sì, sono quasi i figli Ah, sì, devi causare perché se no non potrebbe... No! Nein! Ma tanto lo devi fare comunque perché c'è una delle macchine che devi riferire Delle biomacchine No, quelle qua Non ascia stare le... No, lui li attacca Hai messo tuo aggressivo Stai buono! Vieni qua Sì, fermete Equilibrato per te No, li metto cauto per ora Non attaccare senza provviso Lì devi andare Quella sì Quella sì E lui puoi attaccare Non metti niente Non subito dal cesto Non subito da Certo, non subito da Non subito da Non subito da Vai, cammina Sì, le informazioni sono là Il potaggio è veloce E ci stessi Pazzai che il fattel vi tippa Infatti Cosa, 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 cacchio Che cacchio è qui? Lo so, sembra il bo Ah, è una via, però non è aperta C'è, ma no, tanto non si apre questa Cioè, dopo si apre Allora, lì ci sono le alcine Piccine, piccine Ecco, più colorato, sempre, però molto triste C'è molto posto apocalittico Ebbè, vedi C'è uno l'oggetto che hai lisciato Poi, ecco Ho mancato l'oggetto tantissimo C'è un altro punto rosso sulla matta Lo vedo No, sì, sì, sì Dovamo un prize A tre maschine Tante pure Però fanno qua dentro Cinghiali Sì, sì, ci sono Questi cinghiali Sì, quanti ne vuoi Di qua Non puoi passare No, sì, posso, sì Ricorri Aspettiamo Oh No, se hai sbottuto contro qualcosa E ti ho messo di tutto Oh, ma tutti i punti di cose Mi devi attaccare Di nuovo informazioni sulla mappa Di nuovo salvataggio Così, almeno, il salvataggio è possibile Eh, se no Ottimo gli oggetti servono sempre Poi ragazzi Non vi preoccupate Mi metterò io di impegno A cercare gli oggetti fuori Cioè, a cercare le armi Potenziarle tutte Per la Questa, quella finale Ok, vediamo un po' Giro, 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 giro Ecco qua Anche perché tutte le armi Sono improbabili Intanto dobbiamo sempre Semi di pianta a caso Sì Salti Uii Tocco Bratis Voro amicredo Ci piace Tipo un'evo Replicant Tu avrò E' bello E' un amicredo Premium Primesso Uiiii Premessico Numesso Per nessos Per essos per esso il game of thrones all'improvviso qua chiusa la radio chiusa io non ho capito che stanno facendo in forza diventa di là questo è cattivo questa è cattiva le picchie o ne basta ok 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 hai sentito uno strano rumore? sono quelli di sopra che hanno deciso che devono fare la palestra quindi abbiamo un tizio che fa palestra a random c'è l'altra pirulante per la nostra testa mh non so se che ti possa cascare quindi o un fiume un fiume ci sono vari finali se non mi attaccano io non li attacco ma mi piace molto si ma fa bene no bravissime bravissime vuoi vedere pescare guardate lei allora lancia vai pod vediamo 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 ok è microscopico il pesce ma che cosa ho preso? pesce assassino ho preso una cosa microscopica è un pesce microscopico miseria che bei pesci microscopici è davamente piccolo che neanche si vedeva oh guarda c'è un cosino da aprire lì si perchè è la resistenza ci siamo permessissimo se vuoi la resistenza si direte sì salve con salve accampamento resistenza ma accampamento della resistenza faceva schifo si a quanto vale è un attimo non bisogna toccare questo qui ti puoi anche trasportare sì ok allora c'è un oggetto in mezzo alla mappa là in mezzo ai fiori guarda quella lì i trofei voi se dovevi dargli ora allora andate a incontrare il cavo andiamo andiamo scusi eh gli oggetti io ho voluto le bubero qui c'è niente ci sono quelli che mi fatti ricette dopo per comprare forse per poter inserire il fogo scusi eh primo oggetto prima ho visto gli oggetti ma questo è un altro oggetto a gola speriamo di non farvi molto spoiler tu sei numero due ah sì ciao Nemone perché ti chiameremo Nemone infatti beh guarda non so se c'ho voglia di chiedere grazie quello sì te ne troveremo se ne troveremo se poco vale ripareremo noi sì ma devi parlare comunque con lui cioè nel senso sembra davvero messo male è vero e come potrei immaginare le riparazioni sono così delicate così delicate non sono due volte davvero mi direi sono questo male quanto pare il dispositivo di monedazione è andato in cortocircosa probabilmente un carico eccessivo penso che quattro gadget complessi potrebbero essere sufficienti per ripararlo hai idea di dove possiamo trovare i gadget complessi? si dice che si trovano nelle rovine della città ma ho sentito lì dove siamo stati appena poco fa? siamo cinque minuti fa sì sì in un'azione secondaria quello che vorrei benvenuti benvenuti è sempre bello accogliere i nuovi clienti da mercante di riferimenti dell'assistenza proprio così ognuno di questi oggetti è realizzato a mano da parte a bondi abbandonati in roba presa dai cadavoli dei nemici dai passiamo agli affari come posso essere utile? per ora acquista ma di che cosa vende? vendi i ricicli inseribili? intendi quegli affarini che potessero il corpo? temoli no mi piacerebbe tanto con dei ricicli inseribili ma non ho a disposizione i materiali grezzi necessari beh se riuscissi a tornare con i materiali grezzi potremmo parlarne fino ad allora ehi mi è venuta un'idea e se vuoi mi vorresti prendere? ho una gamba a band messa vedete non posso muovermi più di tanto non potresti ripararti la gamba da solo nel lavoro che fai eh no mi piacerebbe ma tutti i nostri componenti sono dedicati allo sforzo bellico non posso usarli spero che sterminare con le biomacchine così tornerò a ballare ma fino ad allora cercherete ricercherete quello di cui ho bisogno? sì per forza se no non ci vendono cippa allora mi servono una molla rotta un ingranaggio piccolo e un circuito rotto te li posso prestare da replicant segnalo ok oh negozio negozio buongiorno sono Anita Giora questo è un negozio manutenzione puoi parlare con me della tua unità e di come migliorarla questo è PotenziaPod PotenziaPod fondi chip e acquista mamma mia ti ammente anche la memoria oh le memorie yes ti ammente la memoria buona memoria 24 buona memoria perché ora non ho soldi un altro pod si ma ti mancano un sacco di oggetti c'è fondi chip non hai chip da fondere chi ce l'hai di chip vabbè questi suoi tizi tiziosi c'è la signorina questa è ehi tu sono Anita Giora vero sapete di questo cubricapo è un casco antiondi elettromagnetiche per limitare le informazioni non è necessario no scherzavo allora cosa ti preoccupa come si salva E' davvero più divertente parlare quanti metri, ma ancora quando vuoi, questa ti dà le informazioni che ti servono, nel caso in cui tu non avevi le informazioni. Ehi, ciao tizio! Devi salire sopra. C'è una tizia vestita di rosso, un cappuccetto rosso. Poi ve lo raccontiamo, spoiler laggiù in corso. Ma voi non lo conoscete, quindi non potrete capirlo. Poi ve lo raccontiamo, spoiler laggiù in corso. Non ve lo dico per ora. Per ora non ve lo diciamo. Scusi. Non puoi aprire, devi parlare con lui. Scusi. Questo è il potere materiale, non ti ho promesso di entrare. Come no? Perché devi aiutare Nemo. Balordo. Prima devi aiutare Nemo, ne sono col cazzo. Balordo, fammi entrare. Da. Non ti ho fatto? Scusi. Non ti ho fatto? Non ti ho fatto. Non ti ho fatto. Non ti ho fatto. E' un tipo bizzarro, ma non so tutto di tutti, quindi avrà sicuramente le informazioni di ragazzo. Devi aspettare. non devo andare prima a fare missioni le scatole le missioni le missioni si ultimo accesso si si lo so se vuoi scusate biomacchina vi devo preparare su nu si si che state? non c'è niente vai 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 che sono andi ce l'abbiamo già non lì non è più qua ok vai che ci ha segnato proprio la zona dove andiamo? dove andiamo? è quella dove stavano i biebbi e macchine con le aspe mh mh vediamo come al solito sbatto ah ah mi è mancato tanto non mi prendi ma non è più veloce fa davvero non c'è lo stesso che fosse Romeo colpi gli altri giocatori ah Poverino è un giocatore prega e continua recupera se non lo puoi riparare ti ha dato anti catena contro attacco di un ave ahi poveri cossi di altri giocatori ripresa ripresa il sole se non è un'area fappa poi devi ripassare l'altra parte io comunque farei un po' di dei carri di questi tuoi ecco non so ok ok perfetto adesso vai dall'altra parte Ci sono due oggetti che devi prendere, può salire sopra i rami alcune volte? Lo so. Non lo so. Lo faccio qui perché inciampa in tutto, non lo fate capire. Sopra gli alberi. Vedo un oggetto. Non ci arrivo. Sì, ci sali sopra l'auto. Peccato, dovevo salire in modo mio. No. Paraurti. Ci appiamo sulle erbe. Forse qualche radice. Forse le macchine ce l'hanno. Poverine. Eh sì, vado proprio di te. E' l'altra biomacchina, guarda là giù. E' l'altra biomacchina. E' bellissimo. E' lì col peschino. E' lì col peschino. E' lì col peschino. E' lì col peschino. E' il suono del ero. Questo. Questo, questo, questo. Già. Allora, dovrebbe essere un oggetto da qualche parte. Guarda di la, di qua si vedrai un po'. ecco lui è un po' invisibile l'ho già ok adesso perfetto adesso devi tornare alla resistenza ha ragione però alcune richieste sono proprio da una tortura facci le due oh no oh no oh no viscio oh nice ma mi stai facendo il momma bravo 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 senti dei credinaggi di là scusate non ci va di caso si è formula 1 a voi scusate ragazzi non ci va di caso stessi le fronte ah quello sicuro c'è un altro punto attaccato dalle macchine no non è attaccato dalle macchine stavolta ho visto qualcosa mi ha un corpo prego prego ripara ecco qui oh mamma che sta dentro non lo so oh che figo siamo alleati l'hai visto grazie grazie fammi intere no ecco ok no no è piaciuto il cinghialo non si attaccano i cinghialo ho visto un altro 10 un altro morto prega prega hai pregato per domini in giapponese recupera che figo ancora gente che gioca oh un altro è certo che c'è gente che gioca però che continua sempre in giapponese e nessuno smette di giocare non è tutto buono mhm oh un altro oh quanti ammazza ho pensato al mio amore con lo sguardo alla terra prega così fai lei ma si non attacchiamo trochiamo la base così così consegniamo questa questa SUV esatto però quando sentendo la musica è un po' triste già passo mi ha preso il palazzo ok te guarda che ti do guarda che ti do mi fa piacere sentirlo e come dopo tutto io faccio questi anni per tenersi con i miei amici anche se a volte mi chiedo e se le mie armi facessero solo morire i miei amici più in setta mi faccio perdere perché finta non abbia detto niente torna tra un po' ok dovrei avere un po' di roba nuova per farmi Ok Ehi avete trovato i materiali Fantastico Ora posso iniziare a migliorare e fabbricare oggetti per voi Immagino che tu possa usarne un po' per questo malato da gamba vero? Ehm no Perché non ci dici cosa sta succedendo da te? Vedete la gamba sinistra che è andata Della sinistra è quella ancora interamente autentica Au Ho riparato questo vecchio corpo C'è tiraglia di volta nel forzo della guerra Ho cambiato i miei componenti così tante volte che ho perso il conto Ma questa gamba sinistra non è messa col piccato Quindi se la dovesse sostituire cosa accadebbe? Cioè sarei ancora io oppure I dilemmi della vita Comunque è un problema mio, non volevo annoiarvi Presto dovrebbe arrivarmi il materiale nuovo Passate pure a trovarmi quando potete Thank you Un fabbro se non sbaglio Quindi potenziale armi C'è uno No c'era credo il mercante di armi che ti deve dare un gioco Ah ok Sì che dici? Vedi che c'è la mini quest Ok Andiamo la quest C'è lui che ti vede la pensamento Scusi Ehi sei tu Ho quasi dimenticato ti devo ancora una ricompensa Allora ringraziati per mi aiutare a mettere in stasso Quindi ti ho preparato del materiale di potenziamento Pelle di animale C'è il cristallo Un blocco arrugginico 5 mila da una maniera Ci puoi scommettere Ci puoi scommettere Allora acquista potenziamento Cioè puoi potenziare quello giustamente Vai Ok E acquista Flagello, antico sovrano e doma bestia Flagello è la stessa identica che c'ho io in questo momento Ligero doma E Nier Replican E quella è pesante me la pare No è leggera questa Quella pesante e doma bestia Sì Queste qua sono leggere e doma bestia e quella pesante Sì perché è il tipo diverso Sì vedi C'è l'immaginino Yes Però non vorrei spiegare i fondi così Non ora Non ancora Ok Puoi andare Anemone Però direi Siccome si è fatta un po' una certa 44 minuti A parte che c'è un oggetto dietro Uh aspetta Rami indietro C'è un oggetto Vieni Guarda lì apri No No questa non si apri E guarda dietro la cosa Dio dito dito C'è un oggetto Eccolo là Dovei tu Così Non si può aprire Scusi Non mi ricordo perché Non mi ricordo nemmeno io Già che non è adesso Sì Può essere Sono 44 minuti E abbiamo fatto un po' di casino Tre volte Grazie Sono un genio Scusate Ma in caso Prendi la missione principale Poi non siamo No che parla tanto Ciancia Beh direi Siamo all'accampamento Della resistenza I bei fiori bianchi Viola No 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 si vede Sono margheritine Tipo Margheritine Direi che Per oggi Può andare bene così Che Tutto di seguito Un pochino stancante Vi ricordo quando L'abbiamo fatto la prima volta Cinque ore di fila No una volta Mamma mia Una volta quattro ore Una volta cinque ore Con io che spiegavo cose Esatto Mamma mia Una della serie Perché non Non sapevo che poi Avrebbero dato Le spiegazioni No Avrebbe dato il mio sogno Di fare replicant Per PS4 E quindi Avevo portato Automata Spiegando le cose Di me A replicant Guardate che bello Il fatto dei fiori Sì Tra l'altro Visto che tanto Salvi Fai l'autodistruzione Come si parirà Non mi ricordo Dando così due tasti Insieme Questi Sì Vai Ti ho premuto Vieni qua Ninth No lui no Lui non succede niente E sport Letteramente non succede niente A parte saltare il vestito Già No anche Anche a lui Facciamo pare Non hai pantaloncini In realtà Hai pantaloncini sotto Sì Però non hai pantaloncini Io non ho più niente Ho un bel body Ho un bel body Sì Secondo me ti devi Dicaricare Sì sicuramente Ma tanto L'abbiamo già salvato Direi che questa live Può finire qui Con questo bellissimo Demostrazione Di implosione Esatto Alla prossima puntata Alla prossima live Sì E Ovviamente Sempre con Replicant Prima Automata Pomegio Sì portiamo insieme Grazie per averci seguite Alla prossima Alla prossima